Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti da giocherina in questa nuovissima reaction Ebbene ragazzi che dire c'è stato lo state of play io non l'ho seguito sinceramente parlando perché da un po' di tempo a questa parte ragazzi non le seguo in live le conferenze a meno che ci sia veramente qualcosa che aspetto con tutta me stessa e non è stato così insomma nelle ultime occasioni fatto sta che ovviamente ragazzi poi i trailer e le cose che vengono presentate possono essere recuperate successivamente come sta succedendo esattamente con questo video ragazzi perché è stato pubblicato, è stato fatto vedere un trailer di annuncio del sequel suppongo lo si possa definire sequel di Ghost of Tsushima ed era una ragazzi di quelle cose che penso un po' tutti i videogiocatori stessero aspettando in effetti e credo che questo sia stato fatto vedere a sorpresa tra l'altro cioè non so se la gente se lo aspettasse o meno magari qualcuno di voi ragazzi me lo può dire qua sotto nei commenti fatto sta che appunto ragazzi hanno quindi fatto vedere questo Ghost of Yotei spero che si legga così effettivamente di pronuncia giapponese non ne so niente dovrebbe leggersi così in ogni caso ragazzi che dire ovviamente la reaction era assolutamente d'obbligo a maggior ragione dopo che ho portato anche Ghost of Tsushima come serie qui sul canale l'ho finita appunto a maggio è stata una serie ragazzi veramente molto molto bella secondo me gioco che purtroppo io personalmente non ho sfruttato al massimo delle sue potenzialità tra virgolette perché è un gioco che comunque offre veramente tante possibilità per quanto riguarda intendo ragazzi collezionabili missioni secondarie e robe del genere io ovviamente avendo i tempi stretti non ho potuto dedicarmi a nulla di secondario una cosa che un po' mi è dispiaciuta effettivamente però ragazzi sappiamo come funziona insomma quando bisogna portare serie qua sul tubo bisogna insomma dare principale importanza ovviamente alla storia principale nonostante comunque io non mi sia dedicata ragazzi agli aspetti secondari di Ghost of Tsushima è un gioco che veramente mi è rimasto nel cuore un po' come tanti altri bei giochi perché comunque si tratta veramente ragazzi di un giocone è un videogame con la V maiuscola un videogame che comunque consiglierei a chiunque di giocare ovviamente magari l'ambientazione può non ispirare tutti quanti i videogiocatori il fatto che sia open world può non ispirare tutti quanti i videogiocatori sapete che a me ad esempio ragazzi di open world non mi fanno veramente impazzire negli ultimi anni perlomeno i miei gusti sono un po' cambiati quindi non vado pazza per le open world però poi lì sta un po' al fatto che tu ti voglia concentrare o meno appunto sulla storia principale perché magari può non piacerti l'open world può non piacerti il fatto che ci siano 3 miliardi di cose secondarie da fare ma vuoi concentrarti e goderti comunque la storia ragazzi che porta avanti il gioco in sé e è così che solitamente io ho fatto ragazzi negli ultimi anni con i giochi open world principalmente li ho lasciati dopo aver finito la storia principale perché non sono tanto il tipo attualmente perlomeno che si dedica a fare appunto tutte le robe secondarie ma questa è una questione mia e per tornare ragazzi al fatto che Ghost of Tsushima appunto sia un giocone della miseria da tutti i punti di vista e a me ha emozionato veramente dall'inizio alla fine è veramente super emozionante super coinvolgente comunque interessante anche dal punto di vista secondo me dell'ambientazione quindi che dire ragazzi ero impaziente si sapeva comunque che stessero lavorando appunto a un sequel però penso che nessuno di noi avesse idea che avrebbero fatto vedere qualcosa in questo state of play quindi è stato abbastanza inaspettato piacevolmente inaspettato oserei dire e quindi il trailer ragazzi dura tre minuti io non so se ci sono i sottotitoli non so se ci sarà bisogno di sottotitoli sinceramente in ogni caso poco importa tutti noi in un modo o nell'altro ragazzi conosciamo un po' l'inglese spero di riuscire a capire tutto sono veramente molto impaziente ragazzi come al solito mi dilungo e vabbè direi di non perdere più tempo e di andare a guardare questo trailer vediamo vediamo ok 1603 Nostro protagonista Wow Minkaraga Minchia raga Che roba è E' una donna Mamma mia Mamma mia signori Boom Oh mio dio Oh mio dio No raga Oh mio dio Oh mio dio Non ho altre parole da dire sinceramente Se non oh mio dio Bellissimo vabbè Sappiamo ragazzi quanto fosse bello da vedere Già Ghost of Tsushima Quindi hanno riportato anche in questo Ghost of Yotei La bellezza in ogni suo elemento raga Già dal punto di vista ovviamente paesaggistico Delle atmosfere Quindi sicuramente avranno fatto un gran lavoro di nuovo Su tutti questi aspetti Chiaramente non si capisce nulla da questo trailer Per quanto riguarda la storia Si è parlato di Ronin Quindi non credo che sia la stessa cosa dei samurai Anche se l'ambiente è sempre quello E se ho sbagliato correggetemi ragazzi Ovviamente non conosco quasi per niente purtroppo la storia del Giappone antico Fatto sta che questa volta ci buttano lì ragazzi una protagonista Una donna Io perlomeno non ho alcun tipo di problema a riguardo Ragazzi si potrebbero fare sempre tanti discorsi Cioè fondamentalmente stica perché non è che ragazzi un titolo deve essere per forza Legato a tutte le sue caratteristiche Nel senso a perché il primo c'ha avuto un protagonista maschile Allora anche il secondo deve avere un protagonista maschile Cioè fondamentalmente non c'è alcun obbligo penso da parte di Sucker Punch Guardo queste cose qui Quello che si è sentito ragazzi dal punto di vista quindi musicale Wow anche Ghost of Tsushima aveva una colonna sonora di tutto rispetto Anzi veramente memorabile direi Cioè ragazzi penso non si possa dire molto altro Non so cioè se qualcuno ha fatto congetture, ipotesi riguardo la storia Però fondamentalmente rimarrebbero appunto solo ipotesi Perché non c'è stato rivelato assolutamente niente Bellissimo veramente bellissimo Esce l'anno prossimo Non è stato specificato il mese Ma chissà Chissà se uscirà inizio anno o più verso autunno Io ho il sentore ragazzi che secondo me sarà più la seconda metà dell'anno Però magari mi sbaglio In ogni caso ragazzi veramente meraviglioso Quando arriverà il momento Penso che lo comprerò al lancio Ma ovviamente ragazzi parlarne da adesso È un po' inutile Perché comunque manca ancora un bel po' di tempo Ma si vedrà sicuramente ragazzi questi sono giochi che meritano di essere comprati al lancio In ogni caso vedremo Come sempre ragazzi aspetto i vostri pareri qua sotto in commento Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questo trailer Che impressioni vi ha fatto Se magari avete giocato Ghost of Tsushima Se attendete questo Ghost of Yotei Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Vodosha a tutti ragazzi da Giocherina Ciao